ecco guardate cosa sta succedendo adesso ecco tutti che dormono qua nel ristorante che hanno fatto qua un casino della madonna ecco per non toccare con le maniche qua veramente tutto insetto ecco se possibile una cosa del genere ai dio santo già che abbiamo avuto dieci furti adesso questo ci rovinano tutto ecco Sì Sì